Presidente Mezzatesta, siamo ai primi dieci minuti della partita, devo ammettere che la squadra è molto attrezzata per vincere il campionato. Si muove bene, abbiamo un sacco di giocatori di classe, quindi facciamo affidamento su quello. Ma non crede che troppa leziosità potrebbe, insomma... Speriamo di no, di non trovare squadre troppo veloce, che siano lente come noi, però noi abbiamo un tasso tecnico maggiore, quindi speriamo di sfruttare quello. Ho notato Pietro Mandarano, un difensore arcigno, nonostante il fisico fragilo. Arcigno, grittoso e non molla mai. Magari se gli diamo un cordiale, forse... Tenteremo di alimentarlo meglio. Ecco, perché ci vuole una dieta equilibrata e comunque lui in ogni caso deve essere rinforzato alle osse. Certamente. Comunque un ottimo difensore. Presidente, puntiamo alla promozione? Siamo sinceri. Sì, puntiamo diritti alla vittoria del campionato. Con tutto il rispetto delle altre squadre, perché comunque sono fortissime. Sì, noi rispettiamo tutti gli avversari, però abbiamo delle ambizioni e quindi speriamo di raggiungerle. Viva la sincerità. In bocca al lupo, Presidente. Ciao.